assolutamente sì il corso è stato un momento di aggregazione un momento di studio un momento di simpatia indubbiamente i docenti sono stati all'altezza del loro compito quindi c'erano materie pesanti che venivano spiegati in una maniera molto dinamica che quindi rendevano anche molto fluido l'argomento assolutamente positivo l'impatto anche a livello umano più che anche a livello di conoscenza ecco di sicuro una una parte di curiosità perché affrontando la materia tutti i giorni in azienda volevo confrontarmi sicuramente con altre realtà il corso è servito proprio per approfondire certe problematiche ascoltare anche le esigenze e comunque le i lavori che fanno anche altre aziende che magari sono diverse dalla mia di dove opero e e Grazie a tutti Grazie a tutti